La Wiltec sud-est Sicilia in presenza dei vertici confederali e nazionali riuniti questa mattina all'Urban Center per mettere in risalto ancora una volta la situazione di disagio attuale dei lavoratori della zona industriale e del territorio in termini non solo di lavoro ma anche di sviluppo futuro e soprattutto ribadire il bisogno di comunicazione tra istituzioni locali e sindacati a difesa dei tanti lavoratori che versano nel baratro dell'incertezza lavorativa disagi che secondo il sindacato di categoria non si risolvono di certo con ordinanze prefittizie Ultimamente ci sono delle nuove disposizioni da parte del prefetto di Siracusa in quanto non si potranno fare delle manifestazioni e dei blocchi cosa appunto ne pensa la Wiltec e come si intende agire? Noi oggi abbiamo promosso questo confronto con i nostri vertici regionali e nazionali perché riteniamo che è un momento difficile per le organizzazioni sindacali in questo territorio e come si diceva è subentrato un intervento da parte della prefettura che per quanto può essere condiviso il merito riteniamo che il metodo non sia brillante perché è vero che bisogna stare tutti dentro le regole però il sindacato è un organo di mediazione e di confronto insomma è disponibile ad essere ascoltato a confrontarsi anche con le istituzioni per cercare di affrontare i problemi fare le cose per decreto in un clima come questo nel paese in cui si sta cercando attraverso la legislazione di intervenire per risolvere problemi mettendo da parte il confronto ci lascia seriamente preoccupati diciamo che l'area industriale vive un momento molto molto difficile il sindacato ha la necessità di rialzare la testa e di mantenere la schiena dritta perché in questo le nostre controparti e le aziende dell'area industriale ne stanno un po' approfittando assistiamo a delle scelte a parte che non si capisce più qual è l'obiettivo e quali sono i progetti futuri di queste grandi multinazionali presenti sul territorio c'è qualche grande azienda io non esito a fare nomi soprattutto Isab, Lugoyle che sta cercando di intervenire per mettere in difficoltà il sindacato mirando solamente a recuperare costi e senza parlare di futuro questo per noi per quanto riguarda il nostro sindacato è totalmente inaccettabile siamo pronti a farci valere in qualsiasi sede grazie a tutti